Il giocatore del Trento, Filippo Lanza, che è un obiettivo del mercato della società perugina dopo la partenza di Zaitsev. Intanto è pronto il programma della prossima Champions League. Vediamo. Mentre in casa Sir la dirigenza sta definendo gli ultimi aggiustamenti per allestire il roster che farà il suo esordio in campo direttamente al Palavangelisti il 6 e 7 ottobre con la Supercoppa italiana, i Block Devils sono impegnati con le rispettive nazionali. In maglia azzurra il capitano Massimo Colaci, libero bianconero, con l'ormai ex zar di Perugia Ivan Zaitsev, che per le prossime tre stagioni vestirà la maglia di Modena, e il centrale bianconero Simone Anzani, il cui futuro verso la società della presidente Katia Pedrini sembra ormai definito dopo la firma del contratto a metà stagione quest'anno. Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kralievo, l'Italia di coach Gian Lorenzo Blengini si è trasferita a San Juan in Argentina per la seconda tappa della Nations League 2018 di volley. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l'impresa contro il Brasile e hanno zettito la Serbia di Aleksandr Atanasievich e Marco Podarashanin. La nostra nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine settimana di partite in programma dal primo al 3 giugno contro Canada, Iran e Argentina. Sulla carta un trittico assolutamente alla portata, sarà fondamentale vincere altre tre partite per avvicinarsi alla Final Six. Le prossime gare in programma sono di prossimo primo giugno alle 23.10 ora italiana Italia-Canada, sabato 2 giugno ancora 23.10 Italia-Iran, lunedì 4 giugno a mezzanotte 10 Italia-Argentina. Sul fronte mercato i vertici della Sir stanno ancora seguendo la pista dello scambio Lanza-Russell. Lo schiacciatore veneto, in scadenza di contratto con la Diatec Trentino, non ha nascosto il suo interesse nel vestire la maglia bianconera nella prossima stagione, ma a quanto pare la trattativa con la società del presidente Diego Mosna, con la quale si prospettava uno scambio con la formula del prestito con lo schiacciatore americano Aaron Russell, si starebbe complicando a causa dell'avanzamento della richiesta da parte di Trento del pagamento del parametro, cosa che potrebbe far saltare l'affare, che la Sir voleva invece chiudere alla pari.